Giovannelli Matassini, eccolo lì Frat Antoni c'è Buongiorno Montedori, prima di mezzogiorno, eh Buongiorno Allora, cartina presa Binocolo preso Macchina fotografica ce l'ho E basta La città Ma ci devo proprio andare Oh, ma ti puoi tornare a casa no, eh Ma sei sempre la solita Non l'ascoltare Va, te ne prendi un taxi, tanto nessuno se ne accorge Le gite non fanno per te Vezzo Vezzo Dai Dai Ecco, lo sapevo che l'unico può stare accanto a lui Ecco, lo sapevo che l'unico può stare accanto a lui Fai l'opposto, un fingiti morta, piuttosto per terra Ma lì, no Dai, che ti ricapita un'occasione così Ora o mai più Mai più Ora ora, tre ore insieme O evitiamo figure di merda Ok, facciamo così Metti le cuffie e dormi tre ore Ehi Ci sei? Ci sei? Vuoi? No, non si mangia davanti agli altri Vuoi che ti dica che sei una morta di fame? è una balena che fai schifo quando mangi? Dai retta a me, digiuno! Oh, ma che figura ci fai se rifiuti? Guarda com'è carino! Ti ho detto di no! Sei una scema! Ragazzi, questi sono i biglietti! Ok, grazie prof! Grazie! Allora ragazzi, ora andiamo al mic! La strada è brutta, quindi incamminiamoci in fila per due, ok? Vai! Vedi? Solo! Vai ragazzi, mettiamoci qui! Sponiamoci per bene! Allora, siamo arrivati al MAEC, il Museo dell'Accademia Etrusca. Il museo è stato istituito nel 2015. La Lampada a Repuscola Musa Polimia è uno dei simboli del MAEC è una... Sì Vai ragazzi facciamo questa foto Stringetevi un po' Prof Gelatino? Ma un negroni no eh Francesco Lo vedi che rimani sempre a sola? Vuoi dattina svegliata? No, non darle retta. Se avevano voglia della tua presenza ti avrebbero considerata, no? Non ti vuole nessuno. Ormai è evidente È ovvio che non ti vuole nessuno. Se continui a fare la stronza e evitare tutti, chi pensi che ti accetterà? Non darle retta Sara, non ascoltarla Oh sì, ascoltami Taci Non posso, sono nella sua testa, proprio come te Ma fai silenzio una buona volta Sara Ti vuoi di prendere un gelato con noi? Lo vedi scema che ti vogliono? Muoviti, uniamoci a loro Sì, per pietà, perché Sara è la solita sfigata. Senti qua, secondo me la faranno bere e le faranno un video e finirà online in tempo zero Oh, ma te sei irrecuperabile Ok Ok Sì, sì. Sara, Sara, ti prego, stavolta ascoltami. No, no e no. Fallo per te, ti meriti un po' di gioia, ora o mai più? Mai più. Ma sei seria? Vuoi veramente provarci con lui? Ma ti sei vista? Te l'avevo detto che fai schifo, ma chi ti vuole a te? Devi stare a letto, questa è la verità. Smettila. No, quando lo capirai che sei uno sbaglio della natura, nessuno ti vuole. E questa è solo la conferma. Il mondo starebbe molto meglio senza di te. Ma perché gli fai questo? Ha diritto ad essere felice. No, e la colpa è solo tua che ti ostini a deluderla. Devi stare zitta e andartene la sua testa. Vi prego. È solo la conferma. No, no. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Come si fa a far capire a una persona che ti piace? Ti metti vicino a lei e non ti calcoli. Ti offri un cracker e non l'accetta. Ti lascia il posto vicino in pullman e ti ignora. Faccio così esquivo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.